Lancia un SOS al Presidente del Consiglio Conte e ai parlamentari abruzzesi per rivendicare il diritto all'esistenza dei paesi di montagna. Non è un grido di dolore, precisa al microfono di Abruzzo e Molise Live il sindaco di Pesco Costanzo Roberto Sciullo. Semmai un grido di speranza. Chiudere il weekend, se in città significa togliere due giorni d'incasso, a volte nemmeno quello perché la domenica per la maggior parte le cose delle città sono chiusi, in una realtà, tipo una realtà turistica di montagna, quale può essere Pesco Costanzo, significa togliere agli esercenti attività l'incasso dell'intera settimana. Cioè quell'incasso che gli permette di svolgere quel ruolo sociale che hanno sul territorio. E questo non può essere. Quando possono resistere? È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Le vacanze di Natale per tutti noi della montagna sono una boccata di ossigeno, è il 50% degli introiti della stagione invernale. Quindi stare chiusi 15 giorni durante le vacanze di Natale. Se per qualsiasi altro partita IVA, chiamiamola così, che mi piace di più, è 15 giorni di mancato incasso, per molti di noi è il 50%, il 25% del loro incasso sull'intero anno. Perché noi abbiamo una serie di problemi. Abbiamo quei problemi che non siamo in grado di poterci organizzare. Perché mentre un ristorante a Roma fa 10 coperti al giorno e ne può fare un giorno 8, un giorno 12, Qua passiamo dai 0 coperti durante la settimana, ai 100 coperti durante le vacanze di Natale o durante il sabato e la domenica, che dobbiamo necessariamente fare se vogliamo vivere. E se ci mancano questi, noi moriamo. Sciullo affronta tutte le criticità del territorio sangrino, dalla sanità all'economia, passando per la scuola e i trasporti. Io ho paura. Ho paura perché il problema dello spopolamento della montagna è un dato di fatto. La provincia dell'Aquila, se non ricordo male, ha perso in un anno 3.600 e qualche cittadino. Se continuiamo in questo modo, io credo che è inevitabile. Ma non solo sarà inevitabile. Sarà violentissimo, velocissimo questo spopolamento. Dobbiamo porre rimedio. Può solo il governo porre rimedio. E da qui, quante risorse ci servono? Secondo me non tantissime. Molto meno, forse, dei decreti ristoro. Basta focalizzarle, basta localizzarle. Quanti sono gli abitanti della montagna? Io credo che non siamo nemmeno una città di medie e grandi dimensioni. Ma forse siamo di meno. E se continuiamo a fare dei decreti ristori che, per l'amor di Dio, benvengano. Benvengano. Spalmando i numeri percentuali, noi siamo quelli che comunque ci rimettiamo. La sanità. Noi tutti abbiamo le immagini della sanità. Ma vivetela in un paese di montagna, la sanità. E forse ci rendiamo conto che non è proprio come in una città. Perché la gente durante le vacanze di Natale, nemmeno i proprietari delle seconde case, nemmeno qualche residente in loco, è venuto? Perché ci aveva paura. Perché restare in città gli dava una maggiore tranquillità di assistenza sanitaria. Venire qua non si sapeva che cosa potesse succedere. Noi ci viviamo costantemente con questa paura. E allora, proprio perché noi abbiamo una serie di servizi in meno, forse ci si deve qualcosa. Ci si deve qualcosa perché continuiamo a vivere in queste zone. Ci si deve qualcosa perché manteniamo queste zone. Perché il problema che ho sollevato con la lettera è un problema che esiste solo nelle aree di montagna. Il cosiddetto problema antropico. Non esiste altrove. Ma quel problema antropico è la conseguenza anche di un problema sanitario. Forse abbiamo scoperto che la medicina territoriale va necessariamente ridisegnata. E forse se si ridisegna la medicina territoriale, per chi un domani avrà voglia di vivere la montagna, c'è una speranza. Io ricordo sempre delle parole che mi ha detto mio figlio. e ci avete tolto anche il diritto di nascita. Beh, qua noi abbiamo difficoltà ad avere il diritto di nascita. E non è da oggi, da ieri o dall'altro ieri. È da un po' di tempo. Beh, questa situazione non è più tollerabile. Non è più tollerabile per chi come me, come tanti come me, sta in prima linea tutti i giorni. Mi è stato chiesto, toglici l'IMU. La difficoltà oggettiva. Ma se tolgo l'IMU, oggi sto caricando la neve, con che cosa la pago? E allora deve necessariamente il problema della montagna essere affrontato in termini generali, sapendo che questo non è un peso per la collettività, è una risorsa. Noi siamo risorse. Io oggi, a un certo punto, avevo scritto senatori e deputati abruzzesi e non, perché noi sappiamo che molti non sono del territorio, non sanno le problematiche del nostro territorio. Io credo che però, una volta tanto, tutti i parlamentari debbano ragionare non in termini squisitamente elettorali, perché io capisco, se noi non contiamo nulla, qua se va bene uno prende 100 voti in una città o nella costa ne prende 2000, facendo lo stesso giro, però forse queste cose vanno un po' smorzate. La montagna è una risorsa per tutto e per tutti. E coloro che, come me, come noi, continuano a farla vivere, hanno diritto di viverla dignitosamente. Oggi parlavo del problema dell'insegnamento, che è un diritto costituzionalmente garantito. Beh, i nostri studenti fanno più sacrifici degli altri. Si svegliano alle sei e mezza la mattina, alle sette la mattina, prendono l'autobus, vanno a scuola, ritornano a orari improbabili, studiano. E molto spesso lo fanno con dei risultati eccellenti. A queste persone dobbiamo dare il diritto di quello che gli è costituzionalmente garantito. Non solo a chiacchiere, nei fatti, nei fatti con servizi adeguati di trasporto, di DAD. La DAD non è necessariamente negativa, non può essere la sostituzione della didattica in presenza. Ma può essere sicuramente un qualcosa che aiuta la didattica. Ma dobbiamo mettere in grado questi ragazzi di farlo al pari degli altri. Io oggi facevo una considerazione. Noi durante la pandemia abbiamo visto balconi pieni di gente che cantava, suonava, si ritrovava alle sette, alle otto la sera. In un'area di montagna questo non c'è possibile. Ci è negato. E se continuiamo in questo modo, ci sarà negato sempre più. Dobbiamo fare in modo di ritornare a dare dignità agli abitanti di montagna. Il sindaco chiede alle istituzioni qualsiasi soluzione utile per i borghi della montagna. Non credo che un intervento serio del governo, in tal senso, sia un intervento eccessivamente oneroso. Io porto sempre un esempio sciocco dell'Austria. Nell'Austria c'è un parametro correttivo per l'accesso ai benefici sovranazionali, ai benefici della comunità economica europea. L'altitudine. Una distribuzione verticale dei finanziamenti e può essere un sistema. Non lo so se è l'unico sistema, se è il sistema migliore, ma qualcosa ci dobbiamo inventare. Non possiamo permettere che in realtà, come Pesco Costanzo, subiscano queste emiliazioni. Ma io parlo di Pesco Costanzo, ma parlo di tutti i borghi della montagna, che sono un circuito di vita e di economicità del sistema Italia. importante è un ingranaggio di quel sistema che se salta rischia di inceppare tutto il sistema. Dobbiamo individuare delle riforme, delle risorse strutturali per la montagna. E questo si fa con altro. Si fa con programmazione, si fa con una politica a medio-lungo raggio. Una frase di De Gasperi diceva che la differenza tra lo statista e il politico è il vedere a lungo, come diceva Leopardi, al di là della siepe. Però io credo che siamo arrivati nel momento storico in cui questo non sia più rinviabile. ma se non mettiamo seriamente rimedio non sono pessimista per natura ma vedo delle grosse, grossissime difficoltà. Guarda, una cosa sciocca. Noi come Comune abbiamo fatto quello che un ente piccolo come il Comune di Pesco Costanzo può fare ma credo che saremmo stati gli unici in tutto il panorama zonale. Abbiamo deciso di dare un contributo non dichiarabile a tutte le partite IVA di Pesco Costanzo. Fabri, non è molto. È veramente un segno. Ma se le persone te lo chiedono costantemente quel segno vuol dire che abbiamo abbiamo toccato il fondo stiamo raschiando il barile. è un'ultima per lo che fa